Gentili telespettatori, buona giornata. Trovato il terzo rifugio, nascondiglio, covo di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazzara. Dopo l'appartamento, dopo il primo bunker a 400 metri di distanza, ne viene trovato un altro. Un terzo. Nel primo bunker vengono trovati abiti, gioielli e scatole vuote di gioielli. Nel primo bunker viene trovato un poster del padrino. Un poster del film Il Padrino o un poster con la sua fotografia? Vediamo se riusciamo a vedere, perché dove si nascondeva Bernardo Provenzano avevano trovato le musiche del film Il Padrino. E uno a quel punto dice ma realtà è finzione. Quando la realtà imita la finzione, cioè la finzione rappresenta la realtà ma la realtà viene affascinata dalla finzione che viene fatta questa finzione artistica con dei film veramente fatti bene. Allora la realtà che non è bella come il film è la la realtà che imita il film. Vabbè, comunque, spunta il terzo covo. Lo scopre la polizia che ha seguito le tracce di un trasloco. Questo appartamento ora vuoto era infatti quello dove il boss ha vissuto fino a giugno scorso. Si tratta di un'abitazione che si trova sempre a Campobello di Mazzara, paese in cui il capio mafia si sarebbe nascosto prima di trasferirsi in vicolo San Vito, dove è stato scoperto il primo appartamento. Gli investigatori hanno isolato la zona e sono in arrivo gli uomini della scientifica per repertare ogni elemento utile all'indagine. Il terzo, lo chiamano covo, ma è brutto il covo. Il covo sembra... non lo so. Si trova al primo piano al civico 260 in via San Giovanni, a 300 metri dalla prima abitazione scoperta. Quindi uno era distante 400, l'altro 300. Diciamo che era tutto in un raggio molto ristretto, raggiungibilissimo a piedi, ecco, in modo che lui potesse muoversi tra un posto e l'altro andare a recuperare questo o quella cosa. È stato perquisito l'appartamento in vendita. Gli inquirenti stanno accertando che sia il proprietario e verificando se nell'immobile ci siano state segrete. Ci sono dei nascondigli ulteriori. Lo fanno con macchina, quella che anche per cercare se ci sono nel terreno delle cavità. Sono delle macchine con un sonar che va a vedere se ci sono delle parti vuote dietro i muri. Ieri è stata trovata una camera blindata in un appartamento del centro di Campobello di Mazzara. Gli investigatori erano alla ricerca di un altro possibile nascondiglio. In questo piccolo bunker di via Maggiore Toselli, nascosto dietro il fondo scorrevole di un armadio attaccato alla parete di una stanza, quindi aprendo l'armadio dietro c'era una parete scorrevole, non sarebbe stato trovato infatti il vagheggiato tesoro del boss. Né soldi né i tradizionali pizzini della corrispondenza mafiosa. Non è stato trovato neanche l'archivio di Totorina che secondo alcuni pentiti sarebbe stato ereditato da Messina Denaro. Pare ci fossero appunti e qualche carta ancora da interpretare. Alcuni monili e pietre apparentemente preziose, pezzi di argenteria, custodie di gioielli e scatole altrettanto vuote. Mentre nell'appartamento, quello ultimo dove viveva, in vicolo San Vito, da sei mesi, i reparti operativi speciali, i rosti, i carabinieri hanno trovato alcuni documenti che sono all'analisi del RIS, reparti investigativi speciali. Sulla documentazione repertata è ora l'analisi del RIS. Secondo quanto si apprende ci sarebbero alcune sigle e numeri di telefono che al momento non indicherebbero le tracce di un libro maestro. Sempre nel primo bunker aveva appeso un poster di Marlon Brando che interpreta il padrino Don Vito Corleone nel non monimo film di Francis Ford Coppola. I tre covi si trovano lungo un percorso di circa 1,3 chilometri percorribili a piedi in una quindicina di minuti o 4-5 minuti di auto. Oggi il boss sarebbe dovuto comparire in video poi nel carcere dell'Aquida all'udienza del processo in cui è accusato di essere il mandante, ma l'udienza è stata rinviata il 9 marzo per consentire al difensore di essere presente. L'assenza è legata a motivi legati al suo stato di salute che si stanno prestando all'imputato le cure. Bene, cioè bene è un modo di dire nel senso che siamo sicuri che lui era il capo dei capi attualmente nel pieno delle sue funzioni? Perché quando hanno trovato Bernardo Provenzano era il capo dei capi, davvero, ed era nel pieno delle sue funzioni di comando. Dopo Provenzano, dopo Rina, dopo Provenzano si era ipotizzato che questo Messina Denaro fosse il capo della mafia, ma ne siamo sicuri? O era uno dei capi mandamento che è rimasto un capo mandamento e forse la mafia non ha più un vertice? Che non sia il capo dei capi, ma un capo mafia, latitante? Di solito un capo nel pieno delle sue funzioni è circondato e circondato da uomini che lo proteggono, non da fiancheggiatori, non da gente che lo nasconde, ma da persone che lo proteggono, cioè guardie del corpo. Invece quest'uomo andava da solo all'ospedale, senza niente per difendersi, senza guardie del corpo, senza persone che erano lì intorno, da solo. Pertanto davvero Matteo Messina Denaro era il capo dei capi o era solo un capo? È una domanda che probabilmente magari lo sapremmo tra qualche giorno, a meno che il boss non si chiuda in un silenzio proprio totale. Potrebbe anche farlo. Che cos'ha da perdere o da guadagnare? A questo punto assolutamente credo nulla. Dipende che cosa gli passerà per la testa. grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci e grazie.